Ciao ragazzi benvenuti siamo su Conf2 di Modern One Face Ragazzi finalmente sono riuscito a scaricare questo gioco E ragazzi proviamo insieme Anzi già ho fatto qualche partita Ragazzi qualcosa di assurdo Cioè ho fatto una partita assurda Magari dopo vi faccio vedere il riassunto di questa partita È stata eccezionale con tantissimi chili di seguito Qualcosa di allucinante Adesso vi faccio vedere un pochettino come è il gioco Guardate qua ragazzi Armi possiamo modificare le nostre armi Adesso io ragazzi ho tutto modificato Diciamo perché diciamo già ho giocato qualche partita E sono riuscito a livellare anche la pistola Vedete in base a quello che fate con l'arma La livellate e potete ragazzi guardate Cambiare tutte le vere cose Ottica, calcio, spellicità, impugnato e tipo Andiamo sull'ottica E posso ho sbloccato tutti questi murini Vedete ragazzi Ho sbloccato tutti i murini ragazzi Qualcosa di allucinante Poi ragazzi abbiamo anche ovviamente altre armi Vedete Possiamo cambiare anche l'arma Io sto utilizzando le M4 Poi ragazzi potete Andiamo indietro Ci sono anche la mitraglietta Abbiamo anche la mitraglietta Abbiamo anche il fucile a pompa Poi abbiamo la mitragliatrice Ci sono diverse mitragliatrici Abbiamo anche il cecchino Ci sono diversi cecchini Ragazzi potete fare tutto quello che volete Potete personalizzare le vostre armi come volete voi Poi avete anche la specialità Ragazzi per esempio noi andiamo qua Andiamo su specialità Vedete potete attivare queste specialità In base al vostro stile di gioco Potete correre di più Potete resistere di più agli urti Alle granate e quant'altro Potete equipaggiare Due armi principali Nella stessa partita Quindi ragazzi qualcosa di eccezionale Poi c'è la specialità numero 2 Specialità numero 3 Ragazzi poi vedete voi cosa utilizzare Io addirittura adesso Vedete ho messo la Claymore E ho una specialità che posso Equipaggiare due Claymore Nella stessa partita ragazzi Qualcosa di assurdo C'è anche la Mordor per quant'altro Ma io mi piace piazzare le Claymore ragazzi Adesso ragazzi andiamo poi a una partitotta insieme Ah poi ci sono gli operatori Vi faccio vedere Vedete c'è anche la donna Questa qua adesso l'ho sbloccata Io utilizzo il maschio qua Perché lo vedo più mimetico Questo qua E poi abbiamo anche l'Eleanza E quant'altro Ragazzi andiamo a fare subito Una partitozza Io ho messo il Fitro Abbiamo tantissime modalità Però io voglio utilizzare Voglio fare la modalità Team Deathmatch Insieme a voi Andiamo ragazzi Cerchiamo la partita E vediamo come va Eccoci qua ragazzi Siamo addirittura Nella macchina Bello Tutta l'animazione Ottimo ragazzi Scendiamo Dai dai Sto partita la sento positiva Dai date ragazzi Andiamo Noi piazziamo mine Guardate ragazzi Ne piazzo una qua Ne piazzo Una qua E andiamo Sono con te Oh Sono concentrato Sono un banno eh Sono troppo concentrato Sono con te Contatto Ok fatto UAPI nemico in volo No mi ha ucciso ragazzi Non so come ho fatto Cioè l'ho ferito Però penso che il mio compagno L'ho fatto ragazzi Ancora abbiamo fatto Una kill con la mina Contatto Ok È quello che ho ucciso prima Ok Sono qua Ok Non è UCCISO Lines Via da qui Via da qui Mettiamo la mina qua Ora siamo in vantaggio Ma ragazzi era un amico Non come ho visto Bua UAPI In volo Nemico Nemico Fatto Nenico Nenico In campo Contatto Mi hanno colpito Ok Ok CONTATTO! CONTATTO! FATTO! Lì ce n'è uno! FATTO! UAP pronto! CONTATTO! FATTO! COMBARDZAMENTO IN PRECISIONE SONTO! BERSAGIO INDICATO! PRECEDERE! QUI FENIX 3 RICEVUTO! ATTACCO A GRABOLO ALEATO! RAGAZZI RAGAZZI Abbiamo perso per un soffio andiamo a vedere le statistiche ragazzi ho fatto 13 kill 13 kill e 4 morti ragazzi bella partita niente da dire purtroppo i miei compagni si sono fatti ammazzare ragazzi che devo fare ok ragazzi siamo un'altra battita questa è già iniziata infatti cominciamo la partita è già iniziale mettiamo le mine qua nel punto C vai così ok l'ho ucciso l'ho rimasto con lo spudo di guida è l'area ok è l'ho preso A no quello l'abbiamo ucciso è l'area nemico al centro muorici o una botta con la mia mina in attesa un'altra botta con la mina e nice nice ragazzi nice mamma mia ho piaciuto le mine alla perfezione ragazzi porca miseria ho giocato di didattica la mia mina adesso ragazzi io vi lascio con il video di una serie di kill allucinanti che ho fatto oggi pazzesca nella partita team deathmatch quella partita davvero molto bella ragazzi mi sono messo in un punto lì ragazzi ero perfetto sono riuscito a ammazzare tutti qualcosa di assurdo ho utilizzato anche una macchina tipo l'autocarro una cosa che spara cannoni una cosa allucinante ragazzi vabbè adesso vi lascio questa partita ragazzi ci mettiamo alla prossima commentate lasciate like e vi lascio il video con questa serie di kill che ho fatto oggi pomeriggio ciao a tutti è nata partita usa una claymore ora siamo in vantaggio abbiamo perso il comando mi hanno colpito UAB pronto allo schieramento RADAR PERSONALE NEMICO OV FALCON 3 ZERO RICEVUTO BOMBARDAMENTO DI PRECISIONE PRONTO CONTATTO NEMICO NEMICO QUI PHENIX 3 RICEVUTO ATTACCO IN CORSO INPATTO ZERO UCCISIONI NEMICO 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 VICINO AI BUILERA NEMICO 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 Mi sbarrano! Mi sbaglio a terra! Mi sbaglio a terra! Mi sono in campo! Peter 2-0, trasferimento controllo Winston. Muavi, alleato online! Mi sbaglio a terra! Mi sbaglio a terra! Unemico, mi sbaglio! Unemico, mi sbaglio a terra! Unemico! 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 Batteria esaurita! Winston 41! Unemico di precisione in... Unemico! Unemico! Unemico!